recovery found oggi parliamo del recovery found cos'è come funziona e a cosa potrebbe servire perché non è detto che servirà proprio non si sa ancora prima di tutto vediamo che cosa vuol dire recovery found allora le parole recovery found vogliono dire fondo di recupero quindi sarebbe uno strumento per tentare di recuperare quello che si è perso con la crisi economica del coronavirus su quella che stiamo vivendo che oggi da oggi dovremmo uscire poter cominciare a lavorare ora vediamo di esaminare le caratteristiche del recovery found alla primo il recovery found è un fondo che si dovrebbe e dico dovrebbe perché non si sa se si farà quando come si dovrebbe ma non ancora non è non esiste ancora creare si dovrebbe creare per non incorrere nei problemi che erano stati sollevati dagli euro bond dei corona bond e vedi un altro mio articolo precedente sul podcast anche il recovery found si dovrebbe basare su risorse raccolte con un aumento della contribuzione degli stati europei dal bilancio comunitario infatti oggi tale contribuzione è circa l'uno per cento e questo da molti anni e la proposta sarebbe quella di portarla al 2 per cento ma su questa proposta ci sono gli stati del nord soprattutto come al solito che non sono assolutamente d'accordo a questo riguardo punto per con l'aumento della contribuzione la commissione europea pensa che potrebbe mettere 320 miliardi di euro di obbligazioni di questo recovery found e quindi recovery bond e di prestarne circa 160 ai paesi membri bisognosi come noi la spagna e quegli altri e questi prestiti dovrebbero 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 sempre dovrebbero mettere in modo investimenti per circa 1500 1600 miliardi di euro con una leva di 1 a 10 al solito pensano invece di ci dicono che mettono soldi veri ma poi vogliono sempre fare la moltiplicazione dei panni e dei pesci quindi bisogna sempre fare la tara a quello che dicono gli altri 160 miliardi dovrebbero essere dati a fondo perduto agli stati che ne hanno bisogno ripeto come noi la spagna la francia ma per far questo si dovrebbe far passare l'aumento dall'1 al 2 per cento e come detto sopra non è che non è detto che ci si riesca 3 con il recovery found non ci sarebbe la messa comune di tutto il debito pregresso degli stati ma solo quello creato da oggi in poi superando così la problematica emersa come con i corona bond e con gli euro bond quindi che sono stati praticamente definitivamente abbandonati altro aspetto di accesa discussione siamo al punto 4 sempre tra i paesi del nord e quelli del sud è la modalità con cui questi finanziamenti verrebbero erogati i paesi del nord olanda germania e gli altri vorrebbero che fossero prestiti a 25 30 anni con tassi bassissimi ma da restituire assolutamente mentre invece i paesi del sud e noi la spagna la francia vorrebbero finanziamenti a fondo perduto da ripagare con l'aumento del bilancio della comunità europea quello che ho detto prima alla fine si pensa che ci sarà un compromesso del 50 e 50 5 l'ammontare complessivo del fondo dovrebbe essere fra i 1000 e 1500 miliardi di euro per far fronte a tutte le richieste 6 come dovrebbe essere la ripartizione dei fondi anche perché non è che si fa così a occhio c'è una proposta di madrid di ripartirli in base alle perdite del pil e all'aumento del rapporto deficit pil ma non si sa se verrà accettata che sarà questo se sarà un'altra 7 quando sarà operativo il recovery fund per ora il prossimo appuntamento è per il 6 maggio quindi fra due giorni e se anche si trovasse un accordo su tutti i punti l'iter di costituzione del fondo non potrebbe partire prima di luglio agosto 2020 e le erogazioni non prima del 2021 ma data l'urgenza della situazione che sappiamo tutti economica molto molto grave si dovrebbe trovare una scamotage per farlo partire subito 8 chi controllerà come vengono spesi questi finanziamenti a fondo perduto insomma questa ripartizione su questo aleggia la nebbia più profonda ma verosimilmente si prenderanno a modello i controlli per il mess o per gli altri fondi simili quindi presente la troica la bce la commissione europea fmi o meccanismi similari quindi un controllo molto stretto molto pressante per concludere il recovery found anche se sulla carta sembra un buon progetto e se anche fosse approvato in tempi brevi per la sua partenza a meno di magie non sarebbe prima del 2021 ha un'altra cosa per finire sembra che il progetto molti notizie degli ultimi giorni cambiere il nome il recovery instrument o recovery initiative questo ti dà l'idea della poca fondatezza del progetto attuale del recovery found comunque questo è quello che abbiamo facciamo un piccolo riepilogo quindi gli unici progetti realmente esistenti ad oggi sono 1 le erogazioni della BEI che è la banca europea degli investimenti per 200 miliardi di euro che vanno a finanziare le imprese le erogazioni del MES meccanismo europeo di stabilità di cui ho già parlato in un altro articolo per circa 200 miliardi se fosse messo in opera dalla BCE il programma PEP il pandemic emergency purchase program un programma di acquisto di titoli sul mercato secondario ad oggi per 750 miliardi di euro che potrebbe arrivare a 1500 sempre dalla BCE tassi a zero ancora per i prossimi mesi se non anni sempre dalla BCE il programma OMT una specie di QE per l'acquisto illimitato dei titoli di un paese in difficoltà di cui ho parlato in un altro articolo precedente sempre andatelo a vedere o sul podcast o sui video punto 6 sempre dalla BCE abbassamento dei vincoli delle banche europee che liberano fino a 120 miliardi di euro per poter potenzialmente erogare alle imprese fino a 1200 miliardi di prestiti punto 7 sempre dalla comunità europea stop al patto di stabilità una cosa importantissima che è stata anche questa molto dibattuta che obbligava gli stati a non andare oltre a un deficit del 3% a un debito pubblico superiore al 60% del PIL punto 8 dalla comunità europea possibilità di usare i precedenti fondi europei destinati a altri scopi che hanno stati stanziali nel passato per spese per emergenza coronavirus 9 ultimo punto dalla comunità europea il fondo SURE è una specie di integrazione alla cassa integrazione europea per 100 miliardi quindi se dopo il 6 maggio che è l'appuntamento che si sono dati per discutere più approfonditamente di questo recovery fund ci saranno importanti novità farò altri articoli per illustrarti i tecnicismi e le informazioni nuove se hai voglia di approfondire gli argomenti puoi scrivermi a infoalfonsoselva.it o andare a sentire le altre puntate del podcast finanza semplice o guardare sul mio sito www.alfonsoselva.it ciao e ci sentiamo alla prossima